La ricerca di Focusrite oggi dimostra purtroppo quanto l'Italia mediamente non segua le tendenze in atto, quindi non segua massicciamente quelli che sono i segnali che un'analisi di mercato fa emergere chiaramente e di conseguenza siccome l'Italia ovviamente è una metta turistica molto importante, sta diventando territorio di conquista, di colonizzazione, ho messo io in un tweet, colonizzazione legale naturalmente parlo, da parte di aziende, delle OTA, dei grossi player stranieri che investono sul turismo in Italia ma in questa maniera i profitti vanno all'estero quindi l'Italia magari va anche bene come arrivi a presenza però nessuno fa poi un'analisi della redditività e farla è importante perché significa anche fare delle valutazioni sull'occupazione, sulla sussistenza e sul futuro di questo settore. E allora è venuta fuori quest'impeto di dire tu ministro tecnico affronta finalmente quelli che sono i nodi del settore. Intanto una cosa positiva è che hanno fatto un ministro e io non me l'aspettavo perché i ministri erano pochi e invece questo è il sintomo di attenzione e soprattutto di approccio economico vista la professionalità della persona. Le quattro cose che io ho voluto sottolineare sono governance, ossia chi fa cosa, ci sono troppe persone che in questo paese fanno in qualche maniera capo o hanno voce in capitolo in materia turistica si parla di 13.000 fra pubblica amministrazione e enti, è una babele impossibile da gestire quindi chiarezza sulla governance. Secondo strategia, siamo un paese che non ha una strategia, a seconda di quelli che sono gli obiettivi ma soprattutto sul brand paese, Italia, bisogna avere una strategia globale per i mercati esteri. Burocrazia, questa è una cosa di cui io mi batto da tempo, snellire questo tipo di burocrazia. I tempi della rete, ma i tempi del mondo ormai non sono più compatibili con quelli della nostra burocrazia e questo ci fa perdere ulteriormente della competitività. L'ultimo è quello dell'innovazione. Cerchiamo di avere un approccio innovativo sia culturalmente che tecnologicamente quindi approcci anche innovativi di processo. C'è tanto anche da copiare e da riadattare alle nostre situazioni, vediamo di farlo.